Simone Giannelli, primo set, bella siete giocata la Bari, a testa altissima contro la Russia, poi piano piano avete ceduto e è arrivata una sconfitta dopo quattro vittorie consecutive. Sì, abbiamo, come detto tu, siamo partiti bene, abbiamo giocato un buon primo set, arriviamo sopra, lo stavamo giocando meglio noi della Russia, poi bisogna dar merito anche a loro perché insomma hanno dato in battuta al loro posto, un po' d'età e ha fatto la differenza perché non siamo riusciti a toccare palla, insomma ha fatto delle battute veramente buone e poi siamo andati punto a punto e abbiamo avuto la palla del 24-23 e non l'abbiamo sfruttata e poi contro queste squadre qua quando non sfrutti certe occasioni è difficile perché loro poi hanno fisicità, hanno esperienza e quindi merito a loro, teniamo il primo set fatto bene e dobbiamo migliorare ovviamente perché nel secondo e nel terzo non ce la siamo giocata proprio la Bari, quindi in quei momenti lì secondo me dobbiamo imparare a stare lì, a soffrire e a sfruttare tutti i momenti che la pallavolo è un attimo che cambi inerzia della partita quindi esperienza per il futuro.